Ciao Daniela, eccoci qua, pronto per provare a rispondere alla tua domanda che era Molti giovani cercano carnalmente donne mature. Sarà per insicurezza? Ricercano emozioni che le ragazze più giovani non sanno dare? Cercano figure materne carenti? Il mio tentativo di spiegarti, naturalmente il punto di vista è il mio, il motivo di questo nostro interesse per donne più mature. Un interesse carnale per donne più mature. Ora io ti parlo di quelli che sono i miei ricordi e di quelli che sono i discorsi che si fanno tra uomini. Da sempre ho sentito che l'interesse per una donna più grande era dovuto al fatto che c'era un'aspettativa, che andare a letto con una donna più grande era un sinonimo di divertimento, di piacere, perché erano donne con maggiore esperienza, quindi meno paranoie mentali rispetto alle ragazze più giovani. Comunque era un'esperienza, era un'esperienza differente. Quindi principalmente penso sia questo il motivo. Ciò non toglie che non ci possano essere anche spiegazioni relative alla ricerca di una figura materna o può darsi che c'è chi lo faccia per insicurezza e si avvicini ad una donna matura perché ritenga che sia più comprensiva. Ma quest'ultimo punto dell'insicurezza io non sono molto convinto perché se io sono un insicuro difficilmente mi scontrerò o mi metterò sessualmente allo stesso piano di una persona che ha più esperienza di me. Se sono un insicuro cerco una persona che ritengo più debole. Questa è un'impressione. E quindi penso che sia principalmente per una questione di emozione, ricerca di emozioni. Ma la parte che ritengo più interessante di tutto che questo è che oggi finalmente queste cose si facciano. Cioè io quando ero giovane era quasi impensabile che una donna più grande venisse a letto con te e invece finalmente queste cose si fanno. E non si fanno perché la società è cambiata ma si fanno perché le donne finalmente si sono prese questa libertà e hanno fatto sì che la società cambiasse. E secondo me è fatto benissimo. Perché se una attrazione vuole andare con uno più giovane secondo me è giusto che lo faccia. Quindi questa è la vera rivoluzione. E quando qualche... io ogni tanto ne parlo, ok? Con donne di ogni età escono questi discorsi e mi lo domandano. Io domando loro poi... Ma scusa tu con me a letto ci verresti? E quando una donna più matura mi dice Riccardo potrei essere tua madre a me viene da ridere. Non lo faccio ma viene da ridere perché penso ok è come se tu mi avessi detto sì ci verrei ma non ci vengo perché socialmente non è accettato. Perché se non ci volessi venire mi diresti no, non mi interessa no? E invece se mi dici ma io potrei essere tua madre è come dire sì però visto che sono più grande di te non lo faccio perché potrei essere vista come tua madre. Quindi questa cosa mi fa un po' sorridere. Quindi riassumendo Daniela, la mia idea credo che siamo attratti, mi metto nella categoria no sempre secondo con chi ti compari, i ragazzi più giovani sono attratti dalle donne più grandi, naturalmente queste devono essere a parer mio fisicalmente interessanti, attraenti e con una mente sexy. Perché potrebbe essere un'avventura, un'emozione no? Poi ci sarà pure chi lo fa per insicurezza e per una ricerca di una figura materna. Però la cosa più bella è che finalmente queste cose si facciano perché c'è anche l'altra parte che è la parte femminile che è disposta a fare ciò che le piace. Quindi questa è la rivoluzione. E niente quindi questo nostro appuntamento a quanto vedo è diventato un appuntamento della mattina no? Perché sto qua e sto facendo colazione mentre mi sposto per l'Italia io vi leggo, ti leggo nel caso tuo Daniela e è un piacere poi provare la mattina con la mente un po' ancora appannata a trovare delle risposte alle tue o alle vostre domande. Quindi la dinamica di questo appuntamento è voi scrivete una domanda per messaggio privato, per commento, io vi lascio, provo, provo a darvi una risposta in video. Devo andare a prendere un treno, ci vediamo. Al prossima domanda, ciao!